che ne pensi di Fellini il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso un marziano a ruolo un raccontatore di storie i trascrittori ritenevano che il cinematografo fosse un'attività riprovevole finalmente riapre la cultura e meno male tu sai che Flajana ha ripetato la guerra e anche le gibe ascianti mica ti metterai i fornelli anche oggi coraggio il meglio è passato mia moglie fa una cura contro le vene vanitose cosa ti ha raccontato Ennio Flajano di Fellini? mi ha detto che secondo lui sarebbe stato un ottimo ministro degli esteri è difficile presentare un lavoro con quello che sta succedendo purtroppo in Europa spero che questo film possa donare un abbraccio nel cuore di chi è presente e questo abbraccio arrivare a tutto il popolo ucraino io ero la mia bussola di fede e io ero la mia bussola di fede Grazie a tutti.